CERCAVAMO UN'IDEA NUOVA UN'IDEA CHE FOSSE SEDUZIONE, UN'IDEA CHE FOSSE SIMPATIA, CHE FOSSE SENSUALITÀ, UN'IDEA INTERNAZIONALE E MONDIALE. Questo braccialetto vestirà molte donne e ragazze in vari paesi. Io in genere quando mi piace una cosa la indosso e la mischio col mio look. E secondo me questo è un po' l'arma vincente, essere se stessi e proporre le cose che ti piacciono nel modo in cui a te piace. Tra il bianco e il nero ci sono mille sfumature e quindi a me piace, è sempre attuale. Assolutamente sì, credo, lo prenderei viola, che è il mio colore preferito. Assolutamente sì, credo.